Ciao! Ben ritrovati in questo nuovo video di Piepite di Scienza. Un profondo dilemma colpì la comunità scientifica tra il 1910 e il 1930. Tutti gli esperimenti confermavano, sembravano confermare il fatto, che il decadimento radioattivo di tipo beta, ora vediamo cosa vuol dire, violava il principio di conservazione dell'energia, uno dei pilastri fondamentali della scienza. Poi, nel 1930, Wolfgang Pauli propose l'esistenza del neutrino, una nuova particella, per salvare il principio di conservazione dell'energia. Ma questa soluzione del dilemma era accompagnata da un secondo dilemma. Infatti, come Pauli aveva previsto, il neutrino non doveva avere carica elettrica, doveva avere una massa molto piccola. E questo portava al fatto che il neutrino interagisse debolmente con la materia. E quindi, come si calcolò subito dopo, un neutrino ha una grande probabilità non solo di attraversare gli strumenti di misura del laboratorio inosservato, ma addirittura di attraversare tutto il pianeta Terra indisturbato e uscire dall'altra parte e continuare il suo viaggio nel cosmo. In altre parole, il neutrino era molto difficile da osservare in laboratorio. Quella che scopriamo oggi è un'avventura affascinante, ricca di fisica, che portò alla predizione nel 1930 di una delle particelle più elusive di tutte, il neutrino. Quindi oggi vogliamo rispondere alle seguenti domande. Perché il decadimento beta sembrava violare il principio di conservazione dell'energia? Come fece Pauli a predire l'esistenza del neutrino 26 anni prima della sua scoperta in laboratorio, della sua scoperta sperimentale? Da dove viene il nome neutrino? Sembrerebbe un nome tipicamente italiano, con questo diminutivo. E perché un neutrino ha una grandissima probabilità di attraversare la materia indisturbato? Oggi risponderemo a queste e a tante altre domande lungo il cammino. Prima di cominciare, vi ricordo che ho scritto due libri, l'ultimo dei quali si intitola Capire il tempo e lo spazio, ed è un libro che vi spiega con un linguaggio chiaro e semplice, ma allo stesso tempo scientificamente rigoroso. Che cos'è il tempo? E che cos'è la relatività di Einstein? La relatività ristretta e generale. E quindi, che cos'è la gravità? Vi lascio i link ai libri in descrizione. Partiamo allora con il neutrino. Prima di tutto, che cos'è il decadimento radioattivo beta? Esistono in natura tre tipi di decadimento radioattivo, chiamati alfa, beta e gamma, dalle prime tre lettere dell'alfabeto greco. Nel decadimento radioattivo beta, un nucleo si trasforma in un altro, emettendo un elettrone e, come sappiamo oggi, anche un antineutrino elettronico. Facciamo un esempio. Prendiamo gli atomi di carbonio di cui è costituito il nostro corpo. La stragrande maggioranza di questi atomi di carbonio sono atomi di carbonio 12, cioè che hanno sei protoni e sei neutroni. Una piccola percentuale è costituita da atomi di carbonio 14, sei protoni e otto neutroni. Con il tempo, questi atomi di carbonio 14 si trasformano in atomi di azoto 14. In questa trasformazione, un neutrone si trasforma in un protone ed emette un elettrone. Il protone rimane nel nucleo, che quindi da carbonio diventa azoto, e l'elettrone viene espulso dal nucleo. Questi elettroni espulsi sono quelli che si chiamano a volte raggi beta. Disegniamo in un diagramma il decadimento beta che abbiamo appena descritto. In questo diagramma, detto diagramma di Feynman, il tempo passa dal basso verso l'alto, quindi lo leggeremo dal basso verso l'alto. E rappresentiamo solo il neutrone che si trasforma in un protone. Ignoriamo tutti gli altri neutroni protoni del nucleo di carbonio 14. Quindi all'inizio, partiamo dal basso, esiste un neutrone nel nucleo e poi ad un certo punto esso si trasforma in un protone ed in un elettrone. Perlomeno questo è il diagramma che avrebbero disegnato nel 1910, quando ancora si ignorava l'esistenza del neutrino. Poi nel 1930 Paoli propose l'esistenza del neutrino per salvare il principio di conservazione dell'energia, come vedremo, e nel 1934 Enrico Fermi creò la sua teoria sul decadimento radioattivo beta. E il diagramma che disegnò fu il seguente. Un neutrone si trasforma in un protone, un elettrone, ed un antineutrino elettronico. In tre particelle. Un neutrone si trasforma in tre particelle. Vi siete mai chiesti perché il neutrino abbia un nome che suona tanto a diminutivo italiano? Perché è proprio un diminutivo inventato da un italiano. Nel 1932 Fermi e Amaldi si ritrovarono, insieme ad altri, in via Panisperna a Roma per discutere di radioattività. A quei tempi Paoli chiamava la nuova particella neutrone leggero. E in italiano Amaldi cominciò a chiamarlo neutronino, così in modo scherzoso, e poi abbreviandolo da neutronino si passò a neutrino. E da quel giorno tutti lo chiamarono neutrino. Anche in inglese e in altre lingue si chiama neutrino, con il diminutivo italiano inventato da Amaldi. Così, per scherzo quasi. Ma come può un neutrone trasformarsi in un protone? E da dove esce l'elettrone e il neutrino? O meglio, l'antineutrino elettronico in questo caso. Per capirlo, dobbiamo entrare nel dettaglio del neutrone del protone. E si sono fatti da tre quark. In particolare, un neutrone è fatto da un quark up e due quark down, mentre un protone è fatto da due quark up e un quark down. Quindi, se invece di una linea per il neutrone rappresentiamo tre linee per i suoi quark, messi insieme, esse rappresentano il neutrone iniziale. Ora, uno dei quark down del neutrone si trasforma in un quark up, cambia di sapore si dice, trasformando quindi il neutrone in protone, ma nel farlo emette una nuova particella che fu scoperta nel 1983 da Carlo Rubbia e del suo gruppo Alcern, per cui Rubbia prese il premio Nobel, e che si chiama bosone W. È la particella intermediaria che trasporta l'interazione cosiddetta nucleare debole. Una delle quattro interazioni fondamentali dell'universo. Quindi, questa interazione, la sua peculiarità, è che è in grado di cambiare il sapore dei quark. Un quark down diventa un quark up e questo trasforma il neutrone in protone. e questo viene fatto attraverso l'emissione di una particella W, un bosone. Questo bosone è molto pesante e in un brevissimo tempo si ritrasforma in altre due particelle, un elettrone ed un antineutrino elettronico. Quindi un bosone W è in grado di accoppiare, si dice, per esempio un quark down con un quark up, ma anche un elettrone con il suo antineutrino elettronico. O un tauone con il neutrino tauonico, eccetera, eccetera. Quindi questo è il diagramma che disegneremmo oggi. Teniamolo a mente, perché il neutrino interagisce principalmente con questa interazione nucleare debole. Da dove nasce il dilemma, quindi, che tra il 1910 e il 1930 attanagliava scienziate e scienziate? Il dilemma nasce dal fatto che se si osserva lo stesso decadimento beta in un determinato esperimento, ci si aspetta che tutti gli elettroni emessi abbiano la stessa energia, ovvero schizzino via alla stessa velocità. Perché? Perché se, come si pensava allora, il neutrone si trasforma solo in protone ed elettrone, allora il protone ed elettrone devono essere emessi a 180 gradi l'uno rispetto all'altro, per la famosa conservazione della quantità di moto, o del momento lineare, che implica che le due particelle vengano emesse in una direzione e l'altra in direzione opposta. Se l'elettrone viene messo in questa direzione, il protone viene messo in questa. Se l'elettrone viene messo in questa direzione, il protone viene messo in direzione opposta, eccetera, eccetera. Questo, insieme alla conservazione dell'energia, implicherebbe che l'elettrone se ne esca sempre con la stessa energia. Quindi, se dovessimo disegnare in un grafico l'energia a cui escono gli elettroni e contare ogni volta a quale energia escono gli elettroni, il grafico sarebbe un grafico di questo tipo, in cui ogni volta contiamo, misuriamo che l'elettrone ha sempre la stessa energia, quindi un picco, a una determinata energia. E invece si osservava che alcuni elettroni uscivano con poca energia, altri con molta più energia, altri con energia intermedia. Vi era tutta una distribuzione di energia. E questo, quindi, portava alla violazione della conservazione dell'energia, perché se un elettrone se ne usciva con poca energia, dove era finita l'energia mancante? Niels Bohr, uno dei padri della meccanica quantistica, era già pronto ad accettare il fatto che il decadimento beta violasse la conservazione dell'energia. Era già pronto ad accettare il fatto che il principio di conservazione dell'energia non valesse sempre, non fosse universale. Ricordiamo che Bohr, insieme a Heisenberg, a Schrödinger e molti altri, stava sviluppando in quegli anni la meccanica quantistica. E in questo sviluppo stavano mettendo in dubbio tantissimi concetti che fino ad allora sembravano inviolabili. E quindi si capisce che Bohr non trovasse così strano dover mettere in dubbio anche il principio di conservazione dell'energia. Infatti, un principio in fisica non è qualcosa di inviolabile, di dogmatico. È solo un'affermazione che racchiude il risultato dell'esperienza che abbiamo con la natura. In tutti gli esperimenti che si erano fatti fino ad allora, l'energia si conservava. Cioè l'energia, la quantità di energia prima di un esperimento era uguale alla quantità di energia dopo un esperimento, dopo qualsiasi evento in natura. E quindi da lì nacque questa confidenza, così si dice, nel principio di conservazione dell'energia. Ma siamo sempre coscienti, come esseri umani, che i nostri principi scientifici potrebbero un giorno vacillare a causa di nuove scoperte, di nuove osservazioni sperimentali. Un esempio è il principio di relatività di Galileo, che Einstein nel 1905 soppiantò con il principio di relatività, cosiddetto, mostrando che il principio di relatività di Galileo non era valido in tutti i casi, per tutti gli eventi in natura. Altri però non erano dell'idea di Bohr, e nel 1930 Wolfgang Pauli propose l'esistenza di una nuova particella, il neutrino, per salvare il principio di conservazione dell'energia. Nel dicembre del 1930 Pauli fu invitato a una conferenza, insieme ad altri colleghi e colleghe, per parlare di radioattività. Non potendo andare a questa conferenza, inviò una lettera ai partecipanti in cui espose la sua idea. Vi leggo le prime righe di questa lettera. Care signore radioattive e cari signori radioattivi, per salvare la legge di conservazione dell'energia, sono giunto ad un rimedio disperato, ovvero quello di proporre l'esistenza di una particella senza carica elettrica e la cui massa dovrebbe essere più piccola dell'1% del protone. Pauli parla di un rimedio disperato perché quello che sta facendo è proporre l'esistenza di una particella nuova senza avere indizi espliciti della sua esistenza. La particella di cui parla si chiama ora neutrino e salverebbe il principio di conservazione dell'energia perché parte dell'energia del decadimento beta viene portata via dal neutrino, parte dell'energia è della quantità di moto. Quindi, quando un elettrone se ne esce con poca energia, vuol dire che il resto dell'energia è portata via dal neutrino che scappa via dall'esperimento e non viene visto, non viene rivelato, non viene osservato. Quando un neutrone ha molta energia vuol dire che il neutrino si è portato via a meno energia. In totale, la somma dell'energia di protone, elettrone e neutrino è uguale sempre all'energia iniziale del neutrino. E perché tra il 1910 e il 1930 non si osservarono neutrini negli esperimenti del decadimento beta? Perché come Paoli predisse nel 1930, il neutrino doveva avere una massa molto piccola. Quindi, una massa molto piccola significa che interagisce debolmente con l'interazione gravitazionale, attraverso l'interazione gravitazionale con le altre particelle. E in più l'interazione gravitazionale è la più debole di tutte, quindi l'interazione gravitazionale del neutrino è veramente trascurabile. Inoltre, il neutrino non ha carica elettrica, quindi non è in grado, per esempio, di ionizzare l'aria, le molecole di aria, strappando elettroni dalle molecole di cui l'aria è costituita. Inoltre, il neutrino non interagisce attraverso l'interazione nucleare forte, ma interagisce principalmente attraverso l'interazione nucleare debole. Quello che risulta è che la probabilità che un neutrino, incontrando altre particelle, interagisca con queste particelle è molto bassa, mentre è molto alta la probabilità che questo neutrino attraversi la materia indisturbato. Il fatto che il neutrino non si fosse mai osservato, a causa appunto della sua debole interazione con la materia, portò la rivista Nature a rifiutare l'articolo che Enrico Fermi scrisse nel 1934, in cui spiegava la sua teoria del decadimento radioattivo beta, in cui includeva anche il neutrino proposto da Paoli. La rivista Nature rifiutò l'articolo di Fermi perché si trattava di speculazioni troppo lontane dalla realtà e a cui i lettori non erano interessati. Finalmente, nel 1956, 26 anni dopo la predizione di Paoli, i fisici statunitensi Cohen e Raines confermarono sperimentalmente l'osservazione di neutrini. Fu la prima volta che si osservarono neutrini in un esperimento. Lo chiamarono progetto Poltergeist, ovvero progetto fantasma, perché il neutrino era elusivo come un fantasma. Ve ne parlo nel prossimo video. Inoltre, abbiamo creato, abbiamo lanciato il podcast di Pepite di Scienza con nuovi episodi tutti lunedì sulle principali piattaforme di podcasting. Se ti piacciono i contenuti di Pepite di Scienza, ti invito a iscriverti al canale adesso e puoi anche sostenere il nostro lavoro di divulgazione abbonandoti al canale di Pepite di Scienza. Trovi i bottoni per iscriverti e abbonarti sotto il video. Non mi resta che augurarvi una bellissima settimana e ci vediamo sabato prossimo con tanta nuova fisica. Ciao!